Da alcune settimane l'immobile comunale dell'ex autostazione in Piazza della Repubblica è avvolto da teli in attesa che comincino i lavori di riqualificazione annunciati dall'amministrazione comunale ed è stato anche collocato un maxischermo per la trasmissione di messaggi pubblicitari. La Polizia Municipale ha riscontrato delle irregolarità e ha multato la ditta PSC Service, titolare del servizio. La multa ammonta a 422 euro. La Polizia Municipale ha verificato che la ditta in questione non è autorizzata a svolgere tale servizio, ma secondo il suo titolare Pietro Marchese le autorizzazioni ci sono e Marchese sostiene inoltre che si sarebbero verificati dei disguidi da parte degli uffici comunali preposti. La ditta in questione insomma tiene a difendersi e spiega di essere stata autorizzata in rispondenza al bando che era stato indetto dal comune per le sponsorizzazioni in occasione del periodo natalizio.